Questo programma è offerto da Premio Sicilia 2014 alla Ficarazzese Elisa Martorana Palermo, violenta rapine in una tabaccheria Aspra, collocata alla pedana per l'accesso a mare dei disabili Sport, Italia vincente contro l'Inghilterra Premio Sicilia 2014 alla Ficarazzese Elisa Martorana La tredicesima edizione del Premio Sicilia si è svolta con momenti itineranti in più città siciliane Sabato 14 giugno 2014 ai Giardini Naxos in provincia di Messina durante un salotto televisivo regionale sono state proclamate le personalità premiate Premio Sicilia 2014 per l'arte sezione fotografia è stato conferito ad Elisa Martorana La creativa originaria di Bagheria per l'occasione ha ricevuto anche l'esclusiva benemerenza Federico II I due importanti riconoscimenti sono stati proclamati dal Sovrano Ordine dei Templari Federiciani di Sicilia e consegnati alla nota artista dal gran maestro Corrado Armeri e dal gran priore Con questo esclusivo riconoscimento Elisa Martorana corona un anno di successi Palermo, violenta rapina in una tabaccheria È accaduto nella decorsanotte a Palermo nel quartiere Malaspina dove i carabinieri della compagnia Piazza Verdi sono intervenuti a seguito di una violenta rapina ai danni di una tabaccheria ad opera di due persone di cui un'armata i quali, dopo essersi introdotti all'interno della rivendita colpivano con il calcio della pistola il titolare ottantenne appropriandosi di svariati pacchetti di sigarette per un valore di circa 1800 euro non chiede la somma contante di 400 euro contenuta nella cassa Le immediate indagini svolte dai carabinieri grazie anche all'attenta visione delle immagini estrapolette dal sistema di videosorveglianza hanno consentito agli investigatori di individuare e trarre in arresto uno dei due rapinatori identificato in Michele Ammirata, nato a Palermo, classe 1982 disoccupato, con alle spalle un curriculum per rapine di tutto rispetto Castelbono, arrestati due ladri palermitani in trasferta Nel corso di un servizio di controllo del territorio i carabinieri della stazione di Castelbono hanno tratto in arresto due palermitani il 35enne Pietro Quartararo e il 26enne Stefano Calvaruso trafficanti di materiali ferrosi genoti alle forze dell'ordine sorpresi a rubare all'interno di un albergo distante dal centro abitato e da qualche tempo ormai in disuso diventato ormai meta preferita dei predatori di metalli Alessandro Accetta Impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione Contatta Alessandro Accetta è un'idea illuminante Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi Tu decidi come utilizzare il tuo 5x1000 Firma a favore di Apriti Cuore Onlus A te non costa nulla in più ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli Bambini vittime di maltrattamenti e abusi Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica Aiutaci anche tu! Partinico ruba tubi in metalli dall'acquedotto comunale, arrestato è accaduto nel pomeriggio di ieri a Partinico quando i carabinieri hanno tratto in arresto con l'accusa di furto aggravato Mario Celestino, 54enne di Borgetto, disoccupato, noto alle forze dell'ordine Una pattuglia del nucleo radiomobile ha sorpreso l'uomo in pienazione su di una scarpata posta a margine della strada statale 186 mentre asportava dei tubi in metallo dall'impianto di riserva del sistema idrico dell'acquedotto comunale I carabinieri accertavano che lo stesso, con l'utilizzo di una fiamma ossidrica aveva già accantonato, pronte per essere prelevate, 11 tubature per un peso complessivo di 2000 kg circa per un danno pari a 8.000 euro circa Le tubature recuperate nel corso dell'operazione sono state restituite all'evento diritto Aspra, collocata la pedana per l'accesso al mare dei disabili Attraverso un comunicato, l'ufficio stampa di Bagheria informa sulla collocazione su una delle spiagge di Aspra di una lunga pedana, passerella, per facilitare l'accesso dei disabili al mare della frazione L'idea, nata da un cittadino di Aspra, Giovanni Vanella, ha permesso non solo a lui ma anche a molti altri diversamente abili di poter raggiungere con facilità il lido che gli aspresi chiamano lo scaro Alla posa della passerella rappresenta anche il neosindaco di Bagheria, Patrizio Cinque che come nel suo stile che i cittadini bagheresi hanno apprezzato anche durante la campagna elettorale ha attivamente partecipato a pulire la spiaggia e alla posa dei pezzi di legno che sono stati gentilmente offerti da un imprenditore locale negli scorsi anni Abbiamo sposato l'iniziativa di Giovanni Vanella, nostro attivista perché ci ha offerto una delle tante occasioni che non ci faremmo scappare per porre attenzione ai problemi delle persone che soffrono di diverse disabilità ha detto il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque Bagheria, fruizione dei beni culturali ed ambientali Un fitto programma di attività finalizzata alla fruizione dei beni culturali ed ambientali del nostro territorio sarà avviato a partire da mercoledì 18 giugno nell'ambito del progetto Genitori e giovani insieme per nuovi percorsi educativi finanziato dall'assessorato regionale per la famiglia e le politiche sociali ad agire in sinergia la comunità parrocchiale della Chiesa Madre di Bagheria le scuole ITES Sturzo e l'Iceo Scaduto e l'Associazione Il Gabbiano Obiettivo delle attività è quello di favorire il dialogo fra genitori e figli e fra giovani e adulti attorno ai valori fondamentali dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza attiva Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50 E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno Non rischiare, resta sulla buona strada Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000 Firma a favore di Apriti Cuore Onlus A te non costa nulla in più ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli Bambini vittime di maltrattamenti e abusi Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica Aiutaci anche tu Sport, Italia vincente contro l'Inghilterra E' un grande esordio per gli azzurri ai mondiali Un successo prezioso e molto sofferto Con i gol di Marchisio al 35esimo Il pareggio di Starridge al 37esimo Ed il gol del successo firmato da Mario Balotelli al 50esimo Con un perfetto colpo di testa Nel finale traversa Di Pirlo su punizione Nel segno di Super Mario i tre punti che lanciano l'Italia come favorita del girone Soprattutto dopo la sconfitta dell'Uruguay contro la Costa Rica Soprattutto dopo la sconfitta dell'Uruguay contro la Costa Rica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona giornata con l'almanacco barba nera. Oggi è il 16 giugno, si ricorda Santa Aureliano Vescovo. Il nome Aureliano è una variante di Aurelio derivato dal latino Aureus Dorato con significato letterale. Dice il proverbio, chi ama assai parla poco. Sono nati oggi Achille Lauro, Stan Laurel, Giacomo Agostini. Il 16 giugno 1904, in questo giorno è ambientato l'Ulisse di James Joyce, uno dei maggiori romanzi del XX secolo che racconta la storia di una sola giornata attraverso il monologo interiore dei protagonisti. Nel 1963, a bordo del Volstok 6, Valentina Terescova diventa la prima donna ad andare nello spazio. La missione, durata tre giorni, effettuò 49 orbite terrestri. Infine, il 16 giugno 2002, Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietralcina. Woody Allen ha detto, lo psichiatra è un tizio che vi fa un sacco di domande costose che vostra moglie vi fa gratis. Arrivederci da Barba Nera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 16 giugno. A Riete, luna ed urano influenzano positivamente la vita pratica e vi rendono efficienti, mettendo in risalto la vostra immagine di professionisti. Nel lavoro la prontezza di riflessi e la capacità di giocare su un imprevisto agirà a vostro favore. Toro, che rivoluzione con la luna in acquario, l'ansia e la confusione risulteranno le vostre peggiori nemiche, inducendovi a commettere errori. Le vostre incapacità si rivelano scarsamente utili quest'oggi di fronte agli imprevisti che incontrate. Gemelli, le geometrie planetare sembrano ben auguranti oggi. Potete confidare soprattutto nel trigono luna-marte, che infonde tanta energia positiva. Fate conto su una bella lucidità e su un'invidiabile chiarezza di idee per affrontare ogni avventura. Cancro, avete una forte spinta interiore e siete motivati. Approfittatene per impegnarvi con maggiore lena nel solito, dichiarando guerra alla pigrizia. Potrete puntare a obiettivi ambiziosi con buone probabilità di raggiungerli. Dovete solo crederci. Leone, non sempre si può marciare ad alta velocità. Ogni tanto è necessario rallentare quando la strada è piena di buche e rischia di farvi sobalzare. Oggi l'opposizione della luna in acquario vi para davanti degli ostacoli e fate fatica da girare. Vergine, siete molto lucide in questo periodo di lavoro. I sentimenti sono al sicuro e i risultati sono finalmente più concreti ed apprezzabili. Non siete autorizzati a incrociare le braccia. Ce n'è ancora tanta di strada da fare per arrivare in alto. Bilancia, con il trigolo della luna in acquario a Marte nel vostro cielo, vivete davvero un momento loro. Gli astri fanno la loro parte, ora tocca a voi. Senza strafare, cogliete velocemente l'occasione propizia per salire in alto sulle scala del successo. Un corpione bersagliata da Saturno la luna in acquario crea un'atmosfera pesante, portando a rimbangare questioni che credevate ormai morte e sepolte. Tenete a freno le spese, specie se nascono per compensare una mancanza o un senso di insicurezza. Sagittario, si prospetta un eccellente inizio di settimana, grazie soprattutto al concorso della luna in se stile, che in fatto di comunicative ha un vero portento. Oggi gli astri sono pronti a sollevare dalla noiosa routine, con novità e buone notizie su vari fronti. Capricorno Bullying T1 Lenti, sembra proprio che dovete far buon viso e cattivo gioco e accettare senza affiatare qualche rimescolamento in sede di lavoro. Superato l'impatto iniziale, vi godrete tutti i vantaggi dei cambiamenti, ma farete fatica ad ammetterlo. Acquario, quello che doveva essere un giorno fortunato per la luna nel vostro segno con il trigono di Marte, diventa qualcosa di ancora più splendente. Riuscite a concretizzare le vostre fantasie grazie all'entusiasmo con cui affrontate ogni questione. Pesci, giornata positiva, priva di grandi eventi e ideale per ripartire il lavoro. In fase di stand-by l'amore non dovrebbe dare grattacapi. I guai sono sempre a portata di mano, ma se non vi andate a stuzzicare, se ne rimangono in disparte. I guai sono sempre a portata di mano, ma se non vi andate a stuzzicare, se ne rimangono in disparte. Grazie a tutti